La Gevi Napoli alza la Coppa Italia, ieri oltre 2000 tifosi del basket hanno festeggiato al Palasporto Olimpico di Torino lo straordinario traguardo arrivato dopo 18 anni, nel pomeriggio la premiazione in comune. Il parroco di Caevano agli studenti irpini, perché le noccioline arrivano da chissà dove, non dalla Vellinesi o Montevergine, qualcosa non va. Don Maurizio Patriciello solidale con la protesta dei trattori. Padre e figlio arrestati a Baiano per l'omicidio di Felice Di Piello hanno precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri sono arrivati a loro ricostruendo frequentazioni e amicizie della vittima. Lotta per la vita, il sedicenne che sabato notte alla guida della sua minicarra si è scontrato con un SUV guidato da un ventenne in centro ad Avellino. Il minore si trova ricoverato in rianimazione e in gravi condizioni. Malati curati sulle sedi o ammassati senza privacy protestano i familiari. In codice rosso c'è chi aspetta da due giorni e mezzo. Torna ed esplodere il pronto soccorso di Avellino. Ancora Napoli violenta durante la Muvida. Tragedia sperata a Chiaia per una rissa tra giovani in cui un quindicenne è stato accoltellato da una baby gang. Il branco l'avrebbe colpito al fianco destro e al gluteo, ma se la cavirà. Dopo 35 denunce parcheggiatore abusivo finisce in carcere. Nel 2018 il giudice lo aveva destinato ai servizi sociali mai svolti. L'uomo che sanzionava sempre nei pressi dell'ospedale Santo Bono dovrà scontare quattro mesi appoggio reale. L'Avellino alle 20.45 affronta la casertana per provare a accorciare il suo primo e secondo posto dopo il capo Juve, Sabio e Picerno. A Napoli dopo il pari col Genoa Mazzari e sulla graticola sfida a Champions col Parcellona decisiva. Un buon inizio di settimana ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Prima TV. La GV Napoli alza la Coppa Italia. Ieri erano oltre 2000 i tifosi del basket che hanno festeggiato al Palasporto Olimpico di Torino. Lo straordinario traguardo arrivato dopo 18 anni di assenza. Da Manfredi a De Luca i complimenti. Premiazione a Palazzo San Giacomo. Siamo una realtà. Devo ancora capire cosa abbiamo fatto. Sono le parole colme di incredulità ma allo stesso tempo di estremo orgoglio di Federico Grassi. Un'emozione incredibile quella del presidente della generazione vincente Napoli Basket. Siamo al termine della finalissima della Coppa Italia di Basket 2024. A calcare il parquet delle Final Eight in quel di Torino, al di là di ogni pronostico, c'è il Napoli. Chiamato a dire la sua di fronte ad un'impresa molto ardua, battere l'Emporio Armani Milano. Alla fine di un match al Cardiopalmo ad alzare quella Coppa è il gruppo di coach Igor Milicic. All'inalpia Arena per la corazzata Milano non sono bastati i 20 punti di uno straordinario Niccolò Melli e i 19 dello spagnolo Mirotic. A trascinare verso la vittoria della Coppa Italia gli uomini di Milicic ci pensano le prestazioni incredibili di Tyler Ennis, che mette a tabellino 21 punti personali e 7 assist, e poi di Jakob Pullen e Sokolowski, che realizzano rispettivamente 14 e 13 punti e in difesa sono quasi sempre sul pezzo. Schiltz concretizza il sorpasso Milano, ma Jakob Pullen si inventa un tiro da 3 punti che vale 71-73 per Napoli a 13 secondi da sirena. Dopo il time-out di Messina, Milano perde un pallone che pesa come un macigno. Sokolowski e Ennis, dopo i falli subiti, vanno in lunetta e chiudono i giochi. Napoli vince 72-77 ed esplode la gioia dei 1.500 sostenitori partenopei, giunti a Torino per sperare in una impresa che alla fine si è veramente materializzata. E la squadra rientrerà a Napoli il primo pomeriggio a premiazione a Palazzo San Giacomo, oggi per giocatori e staff della Gevi Napoli Basket, che ieri a Torino ha conquistato la Coppa Italia, abbattendo le A7 Milano 77-72. I giocatori del Napoli Basket saranno premiati dal sindaco Gaetano Manfredi. All'ora 18.30 è una cerimonia che si terrà nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, sede del comune di Napoli in Piazza Municipio. Il parroco dica, Ivano, agli studenti irpini perché le noccioline arrivano da chissà dove, non dall'Avelinese o da Montevergine, qualcosa non va, Don Maurizio Patriciello, solidale con la protesta dei trattori. Seminare la legalità ma anche coltivare il rispetto e l'amore per la propria terra, Don Patriciello marcia con i trattori degli agricoltori in presidio da giorni. Ma alla fine noi che cosa mangiamo? Che ci mangiamo? I computer a tavola, che cosa mangiamo? Noi lavoriamo, lavoriamo per che cosa? Per tenerci in vita, ma di che cosa ci alimentiamo? Noi dovremmo fare una statua d'oro agli agricoltori, ai braccianti agricoli, a coloro che ci tengono le campagne vive, perché nel momento in cui la campagna viene abbandonata poi diventa un problema anche da un punto di vista sociale, dell'inquinamento, perché le campagne abbandonate diventano discariche. Don Patriciello semina la cultura antica morra parlando con i giovani, come è accaduto stamane all'istituto agrario De Santis. A Caimano si è esposto fino a rischiare la propria vita. Due anni fa gli piazzarono una bomba davanti alla sua chiesa nel Parco Verde. Gli autori del raid sono stati arrestati, il paroco li perdona ed è pronto a incontrarli in carcere. Li perdono, ma certo che li perdono. Io se potessi andrei a trovarli anche in carcere. Per dire che cosa? Quando siete stupidi ragazzi, quando siete stupidi, guardate. Gliel'ho detto anche ieri dall'altare. Qualcuno stava pure in chiesa, insomma qualche parente, qualcosa così. Voi non volete bene a nessuno. Non dite mai che volete bene ai vostri figli, perché i vostri figli sono le prime vittime di questo vostro modo assurdo di vivere. Bisogna sapere parlare ai giovani. E Gioelier lo sa fare, ribadisce Don Patricello, che ha invitato il rapper di Secondigliano a esibirsi al Parco Verde. A me può piacere, non può piacere, è una musica che non mi piace. A me mi piace, mi piaceva Ornella Vanone, però Ornella Vanone ho 40 anni fa. Adesso, insomma, mi piaceva. Adesso è una musica che magari alle persone più anziane non... Però, se lui sa parlare ai giovani, attraverso la sua musica, la sua persona, passa un messaggio per i ragazzi, per tenerli lontani dalla droga, Dio sia benedetto. Che poi a Sanremo facciano i fischi alla nostra madrelingua napoletana e dovremmo arrivare un poco... Si dice a Napoli, dice chi sei tu e chi son Ghi, insomma. L'intervento che ha riqualificato Caivano, un modello da esportare, secondo il governo Don Patricello, ringrazia che ha permesso al Parco Verde di cambiare pagina, ma alcune mie parole pro Meloni sono state strumentalizzate, avverti il parroco. Che queste mie parole sono state strumentalizzate in un modo abbastanza meschino pure da altri colori politici, mi dispiace, ma non è la verità. Padre e figlio arrestati a Baiano per l'omicidio di Felice Lippiello hanno precedenti per la spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri sono arrivati a loro ricostruendo frequentazioni e amicizie della vittima. Si sono lasciati prendere senza dire una parola ai carabinieri che gli hanno notificato il provvedimento di fermo per l'omicidio di Felice Lippiello, il 54enne ucciso con una coltellata il 9 febbraio scorso nel cortile di Via dei Santi a Baiano. Padre e figlio, 47 e 19 anni, sono stati portati nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri e in queste ore verranno trasferiti in carcere. Alle contestazioni del pubblico ministero Vincenzo Toscano non hanno fatto una piega. Nelle prossime ore, in attesa dell'interrogatorio di garanzia, nomineranno il difensore. Entrambi gli indagati hanno precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti. A loro i carabinieri sono arrivati ricostruendo amicizie e frequentazioni di Lippiello, anche lui con precedenti per droga. Viene confermato il quadro nel quale sarebbe avvenuto l'omicidio, una sorta di chiarimento nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Padre e figlio hanno telefonato a Lippiello, da poco rientrato a casa con la compagna, chiedendogli un incontro che è avvenuto nel cortile del quartiere Besuni. La discussione è presto degenerata e uno dei due ha tirato fuori il coltello e colpito Lippiello alla coscia sinistra. La compagna, a corsa dopo aver sentito le grida, ha lanciato l'allarme, ma la corsa dell'ambulanza del 118 verso l'ospedale di Napoli si è rivelata inutile. Lippiello è morto durante il trasporto. Il fendente gli aveva reciso l'arteria femorale. Lotta per la vita. Il sedicenne che tra sabato e domenica a notte alla guida della sua minicar si è scontrato con un SUV guidato da un ragazzo di 20 anni in centro ad Avellino. Il minore si trova in rianimazione in gravi condizioni. L'altro conducente non ha riportato lesioni gravi. Si lavora sulla ricostruzione della dinamica del frontale. Lotta per la vita. Il sedicenne di Monteforte che nella notte tra sabato e domenica a bordo della sua minicar si è scontrato con un SUV guidato da un ragazzo di 20 anni di Avellino. L'episodio è avvenuto in via tagliamento a luna di notte. Il forte schianto ha svegliato i residenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Ad avere la peggio il sedicenne che è stato estratto dopo complicate operazioni dai vigili del fuoco che hanno dovuto estrarlo dal piccolo abitacolo della minicarra elettrica. È arrivato al Moscati già intubato ed ora dopo un'operazione al femore si trova in rianimazione sotto attenta osservazione dei sanitari. Preoccupano come sempre in questi casi i traumi che il ragazzo ha subito alla testa per cui la prognosi resta riservata. Anche l'altro giovane, il ventenne di Avellino, è stato soccorso e trasportato al Moscati ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni tanto che dopo gli accertamenti il caso è stato dimisso. Intanto sul versante della dinamica si lavora per capire cosa sia realmente accaduto quella notte. Il frontale è stato infatti molto forte non solo per avere accartocciato la minicarra della Citroen ma anche le condizioni del muso del SUV MG erano completamente distrutte. Da capire se uno dei due aveva invaso in parte la corsia opposta o stesse per svoltare sulla sinistra potrebbero essere utili le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza della zona installate dalle attività private. Già raccolta la versione del ragazzo che era al volante del SUV. Intanto la comunità di Monteforte e i compagni di scuola del sedicenne che frequenta il secondo anno del liceo Embriana e indirizzo Scienze Applicate si sono raccolti in preghiera ai stretti intorno alla famiglia in attesa che giungano notizie dall'ospedale. Restiamo ad Avellino senza barelle, malati curati sulle sedie, ammassati e senza privacy protestano i familiari in codice rosso c'è chi aspetta da due giorni e mezzo torna ad esplodere il pronto soccorso del Moscati. L'umanità delle cure è ciclicamente a rischio nel pronto soccorso dell'ospedale intitolato a San Giuseppe Moscati. Dieci giorni dopo la lezione magistrale tenuta dal vescovo di Avellino con gli incolpevoli operatori e manager la realtà mostra ancora una volta le gravi criticità. In assenza di medicina territoriale capace di fare da filtro, in mancanza di posti letto, in ospedale liberi per accogliere pazienti, il punto d'emergenza diventa un imbuto infernale. Dietro un codice rosso una persona caduta in montagna attende da due giorni e mezzo di essere trasferito. I familiari in apprensione segnalano il grave caos. L'assistenza non manca, ma il ritardo con cui viene prestata preoccupa insieme al contesto in cui si assicurano le cure. Per questo ci segnalano anche di pazienti sulle sedie e barelle che scarseggiano, di malati ammassati. Le stanze ne accolgono in numero probabilmente doppio rispetto alla capienza e non può essere altrimenti se i posti letto in reparto non sono stati liberati da altre dimissioni. I numeri restituiscono dagli schermi del pronto soccorso. Ci fanno sapere circa 60 pazienti in carico e in attesa di cure. Un lazzaretto di manzoniana memoria, ma di codici rosso in attesa da 60 e più ore potrebbe trattarsi di un pericoloso record. Un fenomeno, quello del sovraffollamento comune. A molti ospedali campani Avellino non fa eccezione. Fa notizia da due anni per la soppressione del pronto soccorso di Solofra. Altra storia vecchia, come la necessità di umanizzare le cure di un sistema sanitario sempre più al collasso e non solo nei pronto soccorso. Una sanità che avrebbe bisogno dei miracoli di San Giuseppe Moscati. In un'operazione mirata contro il traffico di droga, i finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'individuo è stato fermato e ammanettato dopo che è emerso che nascondeva la droga in modo insolito negli slip. Durante i controlli di routine, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto che l'uomo trasportava 30 dosi di cocaina, ciascuna pesante 5 grammi, nascoste strategicamente negli slip. Questa insolita modalità di occultamento ha sollevato sospetti, portando i finanzieri ad identificare le indagini. Le perquisizioni successive hanno rivelato ulteriori prove del coinvolgimento del sospettato nel traffico di sostanze stupefacenti. Cinque involucri contenenti la stessa sostanza, con un peso di 2 grammi ciascuno, sono stati rinveduti insieme a tre involucri di marijuana. La scoperta ha ampliato le accuse contro l'uomo che ora è a disposizione della procura di Salerno per affrontare le conseguenze legali dei suoi presunti reati. Ancora Napoli violenta durante la movida tragedia sfiorata a Chiaia durante una rissa tra i giovani in cui un 15enne è stato accoltellato, sembra, da una baby gang. Il branco l'avrebbe avvicinato e colpito al fianco destro e ad un gluteo con le ferite che per fortuna non si sono rivelate gravi. Un ragazzo di 15 anni è stato ferito con due coltellati al culmine di una lite tra giovanissimi scoppiata a piazza San Pasquale, quartiere e Chiaia. Nel litigio, esploso per motivi futili ancora da chiarire, a indagare la polizia. A farne le spese è stato il giovane raggiunto dai fendenti che fortunatamente lo hanno colpito in maniera superficiale. Per lui una prognosi di 10 giorni, ma purtroppo non è l'unico episodio. Anche i carabinieri sono stati impegnati al centro storico e nella zona collinare di Vomero e Arenella. Sono stati sequestrati parecchi coltelli ritrovati nelle tasche di molti under 18. Al centro sono stati sequestrati quattro coltelli e un tirapugno in appena poche ore di controlli, con tre ragazzi fermati nei pressi della Galleria Umberto I. In piazza del Plebiscito intercettati un altro 15enne e un 19enne, il primo con un temperino a serramanico e il secondo un tirapugno di metallo. Non solo emergenza armi, ma anche droga. I carabinieri hanno individuato un 23enne che aveva con sé 22 grammi di hashish pronti per essere smerciati. Denunciato, deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Al Vomero, arrestato un 20enne di melito per droga. Dopo 35 denunce, una condanna a un parcheggiatore abusivo finisce in carcere. Nel 2018 il giudice lo aveva graziato a patto che la smettesse con l'attività abusiva, cosa che non è mai successa. Ora l'uomo è stato portato nel carcere di Poggio Reale ed è lì che sconterà i prossimi quattro mesi. Dopo 35 denunce ed una condanna, un parcheggiatore abusivo finisce in carcere. È successo ad un 65enne del rione Sanità di Napoli, beccato per anni, a chiedere soldi agli automobilisti in cerca di parcheggio vicino all'ospedale pediatrico Santo Bono. Una storia iniziata nel 2018 con la prima denuncia. È finita ora con il trasferimento a Poggio Reale per non aver rispettato le prescrizioni imposte dal giudice che la prima volta gli aveva concesso la sospensione della pena. Dovrà scontare quattro mesi di carcere, sei anni fa, come detto, la prima contestazione. Negli anni è stato denunciato per ben 35 volte per la sua attività di parcheggiatore abusivo sempre nei pressi del Santo Bono di Napoli. Fu anche condannato a quattro mesi di reclusione, ma il giudice decide di sospendergli la pena a patto che la smettesse con l'attività abusiva, cosa che non è mai successa. Ora l'uomo è stato portato al carcere di Poggio Reale, lì che sconterà i prossimi quattro mesi. Nel 2018 i carabinieri e la compagnia Vomero sanzionarono l'uomo del rione Sanità. Come accade in molte zone e la città, l'uomo chiedeva illegalmente denaro ad alcuni automobilisti in circa di parcheggio. La prima sanzione fu amministrativa, ma ciò non gli impedì di continuare la sua attività e le forze dell'ordine di segnalarlo e denunciarlo circa 35 volte, quasi sempre, nelle strade che circondano l'ospedale Santo Bono. Il procedimento giudiziario non si è mai fermato ed è andato avanti fino alla condanna. Il giudice ha imposto all'uomo un'ammenda di 4.000 euro e 4 mesi di reclusione, ma nonostante la condanna, l'uomo non rispettò nemmeno le prescrizioni imposte dal decreto di sospensione e di esecuzione per la carcerazione. Venuti meno dunque i presupposti per beneficiare la sospensione, il giudice ha ristabilito la pena della reclusione in carcere. Nel Tg Sport di oggi spazio all'Avellino che stasera alle 20.45 affronterà la casertana per provare ad accorciare sul primo e secondo posto con i KO di Juve Stabia e Picerno e poi i Mazzarri sulla graticola. La sfida Champions col Barcellona può essere decisiva. Spazio anche alla vittoria della Coppa Italia della Gevi Napoli Basket sul Milano 77-72, traguardo storico per i partenopei. E noi ci fermiamo per una breve pausa, tra poco restate con noi. Ben ritrovati per la seconda parte del telegiornale Presidente Ci Aiuti. Il governatore della Campania De Luca dopo il sit-in romano e lo scontro con la Meloni sui fondi di coesione si rivolge alla prima carica dello Stato, invocando l'arrivo dei finanziamenti ancora nelle mani del Ministero. Dopo il mancato incontro a Palazzo Chigi per il riparto dei fondi Fondo Sviluppo e Coesione, venerdì a Roma, De Luca ora punta al Quirinale. Sblocco dei fondi FSC per il Sud, per i comuni, per le infrastrutture, per i campi flegrei, per la cultura. Chiederemo un incontro al Presidente della Repubblica. Chiederemo di essere ricevuti con una delegazione di sindaci per spiegare le ragioni di questa battaglia, scritto il governatore sui social. Tante polemiche e tensioni sino all'insulto di De Luca contro la Premier Meloni e il mancato dietro front. E la Meloni che insulta il Sud. E Quirinale, a parte, nella prima settimana di marzo è previsto un'altra manifestazione sempre organizzata dal governatore, sempre con la richiesta di chiudere l'accordo per i fondi con gli imprenditori. E proprio lo scontro diretto con la Premier, al di fuori dei canali istituzionali, continua ad essere al centro dello scontro politico, con ripercussioni anche all'interno del Partito Democratico. La segretaria, Ellie Schlein, infatti, è molto imbarazzata per quel fuori onda di De Luca contro la Meloni e ha evitato di commentare l'accaduto. Prova invece a fare da paciere tra De Luca e il ministro fitto, Matteo Renzi. Infine rientra nel pieno dello scontro anche il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, protagonista giorni fa di un fitto botta e risposta con l'ex sindaco di Salerno. Marco Nonno, sul classa Diego Militerni, diventa il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Napoli. Alla chiusura del seggio, l'ex consigliere regionale aveva collezionato 604 voti contro i 388 dell'avversario. L'ex consigliere regionale Marco Nonno, sul classa Diego Militerni, ed è il nuovo segretario cittadino di Fratelli d'Italia a Napoli. Alla fine dello spoglio presso il centro congressi dell'hotel Ramada, subito dopo la chiusura del seggio, è risultato che su 1.010 votanti in 604 si sono espressi per Nonno e 388 per Militerni con 18 schede bianche. A proclamare è risultato la commissione elettorale presieduta da Raffaele Speranzon. Con il congresso della città di Napoli, come ha ricordato nei giorni scorsi il responsabile regionale del partito Antonio Iannone, si conclude la stagione dei congressi in Campania, in quanto si sono già tenuti quelli di Benevento, Caserta, Salerno, Avellino e della provincia di Napoli. Ascoltiamo le parole di Iannone. No, assolutamente, merito delle realtà locali di tutte e cinque le province campane che sono cresciute esponenzialmente, lo dicono i dati del tesseramento, noi quest'anno siamo giunti a circa 25.000 tessere, mentre lo scorso anno eravamo a 9.000, quindi un numero che è quasi triplicato. Per quasi due anni il partito che al timone nazionale vede la premier Giorgia Meloni è stato guidato in Campania dal senatore Sergio Rastrelli, che ha così tracciato il bilancio del suo operato in qualità di commissario di Fratelli d'Italia. Questo congresso ci consente ora di guardare alle sfide del futuro, anche alle sfide elettorali, quella per la regione Campania, quella per la città di Napoli, con un altro spirito. Abbiamo una classe dirigente estremamente motivata, coesa, un consenso sempre più alto, abbiamo riannodato tutti quei fili smarriti con le espressioni migliori della nostra città e quindi credo che si possa essere soddisfatti del lavoro fatto e guardare con ottimismo al domani. In vista delle elezioni europee di giugno, l'Associazione Sabato delle Idee ha dato vita a un ciclo di incontri, volte a discutere e dare consapevolezza sull'importanza per il futuro dell'appuntamento con le elezioni europee di giugno. A giugno ci sono le elezioni europee e non mancano in Italia i dibattiti che si avvicinano ad un appuntamento politico importante per ogni forza politica. Anche la città di Napoli è stata inclusa nel ciclo di incontri organizzato dal Sabato delle Idee, iniziativa che vede dialogare esponenti di diverse parti politiche chiamate elezioni europee. Location scelta nel capologo campano quella del NAP Hub Spazio Eventi in Viale Gramsci. L'incontro, l'Europa di oggi e quella di domani, le istituzioni dell'Unione e le ipotesi di riforma. Ha visto la partecipazione di Piero De Luca, capogruppo PD, Commissione Politiche UE, Camera dei Deputati, e di Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, a coordinare il dibattito legato ai tanti temi che offre l'attuale scenario europeo in vista della prossima chiamata elettorale, il giornalista Marco De Marco. L'evento è stato trasmesso in diretta sul sito ufficiale di Radio Radicale. De Luca e Martusciello hanno concluso i loro interventi in sala parlando del tema dell'emigrazione. Sentiamo. Se non lavoriamo sul tema dell'emigrazione, finalmente, per una politica comune di gestione del fenomeno, non emergenziale, ma strutturale, e noi continueremo ogni volta ad avere un approccio ovviamente distorto di questo fenomeno, che è un fenomeno storico di cui dovremmo come Europa farci carico e non riusciremo né ad affrontarlo né, dico a risolverlo, ma a gestirlo. L'idea che ci possa essere un'Europa in cui singoli stati tentano di riaffermare il proprio nazionalismo, inteso in senso negativo, è un'idea che non esiste. La passione per il calcio e per il giornalismo, insieme a quella per le investigazioni, è il romanzo giallo. Emilio Limone, maresciallo dei Carabinieri, ha presentato ad Avellino il suo mistero di Villa Feoli. Il mistero di Villa Feoli è il romanzo giallo scritto da Emilio Limone, ultima uscita della collana, le dalie nere e ianieri edizioni, dove coniuga la sua passione per il calcio e la professione di maresciallo dell'arma dei Carabinieri, presentato al Circolo della Stampa alla presenza del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, dell'amministratore unico IDC Giovanni D'Agostino e dei tantissimi amici che, per l'occasione, hanno riabbacciato con affetto un compagno di tante esperienze nel mondo del giornalismo. Tornare ad Avellino significa respirare l'area delle origini, l'area della mia infanzia e della mia adolescenza, quindi non potevo fare diversamente, ho fortemente voluto presentare per la prima volta questo romanzo ad Avellino. Il romanzo parla tanto di Avellino, parla della passione calcistica del protagonista Ettore Festa e parla anche del legame con la propria terra del protagonista e sarò felice anche di portare Avellino a trovo, che ovviamente presentava i libri un po' in tutta Italia. 164 pagine dove l'autore ha saputo mettere insieme tutte le sue passioni più grandi. Il protagonista, il maresciallo Ettore Festa, che dopo aver visto sfumare all'ultimo secondo una gioia calcistica che attendeva da molti anni, smette i panni del tifoso e torna al comando della stazione dei carabinieri di Rofi Terme. A un passo dalla pensione si ritrova alle prese con un delitto, il secondo di cui deve occuparsi in vita sua, in una sontuosa villa nobiliare. Si tratta di un giallo che ha come leitmotiv la passione calcistica appunto del protagonista, il quale reduce da una cociente, l'illusione che vede appunto coinvolta la squadra bianco-verde e dal ritorno a Rofi Terme, che è una cittadina d'invenzione ispirata a Fiuggi, dove il maresciallo Festa comanda la stazione dei carabinieri, Festa deve indagare su un delitto commesso all'interno di una villa nobiliare, appunto Villa Feoli, dove uno degli eri viene trovato morto con uno di tagliacarte conficcato sul collo. Ci sono tante piste da seguire, una delle quali quella esoterica, ed il maresciallo Festa combatti con quella che lui ritene essere una certezza, lui pensa di essere una persona razionale, invece diventa preda di suggestioni. Da parte mia è tutto, vi lascio allo sport, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS